Buongiorno amiche, buon giovedì, sono super felice che finalmente è arrivato giovedì, pe 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 sì, giovedì amiche, sono felice perché in realtà è un venerdì per me, nel senso amiche che domani ho preso un giorno di ferie e quindi non andrò a lavorare ma potrò stare a casa con i bambini. L'unica cosa con i ragazzi, l'unica cosa che dovrò fare sarà quella di come sempre fare un po' di pulizia a casa prima di Pasqua, registreremo insieme a loro se avranno voglia qualche video di spacchettamento a uova di Pasqua e come sempre mi truccherò assieme a voi perché amiche non rinuncio mai neanche il sabato e la domenica e neanche i giorni magari che ho di ferie a truccarmi perché mi fa stare bene, mi fa sentire a posto con me stessa. Quindi come sempre amiche oggi facciamo un po' di skin care insieme e ci trucchiamo, come sempre ho utilizzato i prodotti di Lancome, il tonico, il siero e la crema anti rughe. Invece come crema occhi ho utilizzato la crema di Shiseido specifica per le occhiaie che mi piace tantissimo, devo dire che la utilizzo da tanto tempo la sera specialmente e mi trovo molto molto bene. I prodotti di Lancome mi sono piaciuti tantissimo ma sono curiosa di provare un'altra linea, è arrivato quasi il momento di iniziare un nuovo ciclo con un'altra linea. Come sempre nel collo applichiamo l'extra firme in collo e décolleté di Clarence, anche questa è giunta quasi alla fine e quando sarà veramente terminata perché amiche la usiamo fino alla fine cambieremo marchio di crema, cambieremo brand. Nelle manine come sempre la crema di low crema all'olio di Argan e come lip balm oggi utilizziamo il labello Original Pride Kiss Edition che garantisce 24 ore di idratazione, mi piace tantissimo perché è super super colorato, è veramente bello e arcobaleno molto molto carino. Devo dire che è uno dei più colorati, ma geni, pini, brufolini e gli occhiaie da pandina, noi insieme le contrastiamo con cose amiche, innanzitutto con un po' di allegria e poi con il correttore e con il fondotinta. Il fondotinta che utilizziamo oggi è lo Skin Paradise molto molto chiaro che all'interno ha l'SPF 20, la colorazione, la Fair 02, molto bello soprattutto perché amiche l'ho pagato pochissimo in super mega offerta, mi pare di averlo pagato tipo 3 euro, mi pare addirittura 2,90 euro e sono molto contenta di averlo provato. Questo è molto leggero, però devo dire che mi piace, non vi preoccupate se è un po' chiaro perché tanto poi con le polveri andiamo a sistemare il colore e anche con il correttore. Stiamo utilizzando il Liquid Camouflage High Coverage Concealer di Catrice che garantisce 12 ore e non transfer e waterproof in colorazione 015 Honey. Quindi molto molto bello, potente questo correttore, copre tantissimo e costa pochissimo perché l'avevo comprato in offerta su Amazon. Ci vuole come sempre tanta tanta pazienza per sfumare bene sia il correttore che il fondotinta. Amiche lo so, è noioso soprattutto per me perché non c'è colore, dico io, non è colorato, è tutto un po' giallino, marroncino, begiolino quando si tratta appunto di base, di fondotinta e di cipria. Però ci vuole perché alla base di un makeup riuscito bene, nel mio caso che ho bisogno anche di coprenza con qualche brufolino, devo dire che una bella base fa proprio la differenza. Stiamo utilizzando la cipria di Revlon Colorstay Blot Matte Setting Powder che garantisce 16 ore e il numero è la 001, è in polvere libera ed è veramente molto molto confortevole. Non tira, non mi secca la pelle, mi trovo bene, mi piace tantissimo. Come blush oggi utilizziamo questo simpaticissimo blush con Lumpa Lumpa di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. È un prodottino fatto da Revolution per la linea appunto Willy Wonka and the Chocolate Factory. Molto carina questa linea, noi l'abbiamo provata praticamente tutta, abbiamo comprato tutti i prodotti, li abbiamo provati assieme e devo dire che è pazzesca. Mi piace veramente tanto come lina, erano super carini questi prodotti. Come terra abbronzante, per fare un po' di contour, per sfumare la parte sotto amiche delle guanciotte, utilizziamo la terra abbronzante effetto seta di Collistar. Molto bella e luminosa questa terra, dà un tocco di abbronzatura, se si sfuma bene anche su tutto il viso ed è molto molto leggera. È molto sfumabile, devo dire che è molto molto carina. E come illuminante utilizziamo lo Shine Bright Sparkling Top Coat. È un top coat scintillante viso ed è coltè di pupa. Questo è quello dello scorso anno. E spoiler amiche, ho comprato ovviamente anche quello nuovo che andremo a confrontare. Perché hanno rifatto questo bellissimo illuminante in versione nuova. Penso perché sia andato, cioè, tipo viralissimo, super pazzesco e hanno quindi deciso di rifarlo. Speriamo che il nuovo sia ancora più bello. Non vedo l'ora di unboxarlo con voi, ma... 3, 2, 1... Voila! Oggi utilizziamo questa meraviglia. È la palette Disney Classic di... La carica dei 101. È veramente carino. C'è il cagnolino della carica dei 101 in copertina. Ed è veramente molto molto bella. All'interno contiene 14 colorazioni. Come sempre il nostro amico scotch di carta ci aiuta a realizzare un make-up il più possibile preciso e pulito. Abbiamo applicato anche la base occhi illuminante fissante di Kiko. Una base di cui non posso più fare a meno perché mi trovo veramente bene. Con un pennellino pulito e morbidoso applichiamo questo bellissimo color pesca. Devo dire che è pazzesco questo colore. Se non il mio colore preferito, sta nella top 3. Quindi mi piace veramente tanto questa gradazione di colore. E non è un arancione. È proprio una via di mezzo tra salmone e pesca. Dal vivo è più pesca, diciamo. Anche quasi al bicocca. Però è bello. Invece in camera vedo che risulta più aranciatino. Ho sfumato la piega dell'occhio con il rosso che c'è, un rosso un po' cupo, un po' scuro e il marroncino presenti all'interno di questa palette. Devo dire che con un solo utilizzo nella piega dell'occhio ho utilizzato tantissimo prodotto. È perché mi sa che è proprio in polvere molto leggera e non è molto pressato. Quindi quei colori con i glitterini si consumano molto velocemente. Ho preso anche un po' di marrone perché c'è un marrone intenso molto caldo. Perché se no non si vedeva, diciamo, non ha creata bene l'ombra. E quindi ho intensificato con un po' di marrone. Con un pennello molto morbido e pulitissimo sono andata a sfumare bene 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 il marrone scuro. E via che si vola super pronto già il primo occhio. Vado ad applicare direttamente con il polpastrello l'arancione più intenso e glitterino. È, diciamo, un po' riflettente, se così si può dire, veramente luminoso e bello. Applichiamo un po' di eyeliner. Quello a mica non manca quasi mai. Quando non abbiamo un colore che mi piace, particolarmente scuro, a volte opto per una semplice linetta striscia di eyeliner nella parte, diciamo, nella rima superiore dell'occhio esternamente. Mi piace. Mi dà come il senso di look occhi completato. Devo dire che mi soddisfa molto l'utilizzo dell'eyeliner. Abbiamo staccato lo scotch di carta e questo è il risultato. Oggi utilizzo un mascara, a me che lo so costoso, è il Dior Show Iconic Overkle. Spero che lo facciano ancora. È in colorazione 0,90. Praticamente questo mascara l'ho comprato in una box. Natale, non quello appena passato, ma l'anno prima. Quindi è praticamente un anno e mezzo che ce l'ho a casa e mi dispiace utilizzarlo perché costa tanto. Però mi rendo conto che se no diventa vecchio, rischio di trovarlo secco. E allora ho deciso di utilizzarlo con voi. Però è veramente costoso questo mascara. Ed era in una box che aveva in omaggio, mi pare, un mini rossetto rosso, invogliata dallo sconto del Natale. Invogliata dalla box, l'avevo comprato in offerta. Però è veramente costoso. Devo dire che ora che ho provato il mascara di Essence, che comunque ho pagato con voi 3, 4, 5 euro e sono veramente atomici, non lo so, ecco, se mi sentirò ancora di comprare un mascara che magari costa 25, 30 euro. Perché ho visto che con una piccola spesa di 5 euro sono lo stesso, molto contenta anche con mascara che in proporzione costano veramente molto meno. Quindi però questi, ormai ce l'ho questo e anche qualcosina ho da usare insieme a voi del calendario dell'avvento di Clarence e di Lancome anche. Quindi li utilizzeremo perché è un peccato amiche che vadano comunque sprecati. Perché io tendo a voler conservare le cose, quelle diciamo più costosette, per risparmiarle. Però alla fine non è un risparmio, ma è solo uno spreco perché mi rimangono. Lì diventano magari pezzi da museo, ma si seccano, scadono e non possono essere più utilizzati. Quindi meglio utilizzare una cosa quando è buona e non è scaduta e eventualmente pensarci bene prima di comprarli se non abbiamo il coraggio di usarli perché sono poi costosi, non è inutile comprarli ecco. Io spesso ho fatto così anche con la cipria, con l'illuminante, con una terra. Me l'ero magari regalato un pezzo solo per il mio compleanno o per Natale e poi mi dispiaceva usarli. Invece tante cose che ho comprato su Amazon mi sono piaciute tantissimo e le utilizzo molto volentieri perché non mi dispiace terminarle, tanto costano poco. Questo invece è un lip gloss che abbiamo trovato all'interno del calendario dell'avvento di Lancome o la box. Il numero è il 213. È molto bello questo rossetto. È un lip gloss veramente molto molto carino. Non ha proprio diciamo nessun difetto. Mi piace veramente tanto e stiamo applicando anche un matitone veramente molto molto bello. È un matitone di pupa e si chiama Shine Up Lipstick che è una matita rossetto effetto scintillante. Il numero è la 003. Mi piaceva l'idea di abbinarlo a questo look cochi. Io amiche spero che questo look vi piacerà. Fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate di questo look cochi. Siete contente che è arrivato giovedì. Io come sempre vi auguro una bellissima giornata. Vi mando un bacio grande grande grande. Ci sentiamo nei commenti e ci vediamo nel video del pomeriggio. Ciao amiche. A dopo. Buona giornata.